Buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con il nostro consulente finanziario Alessandro Romagnolo. Ben ritrovati. Questa settimana stavo riflettendo su quello che noi tutti stiamo vivendo in seguito a questa crisi pandemica. La società e i rapporti sociali stanno subendo una profonda trasformazione che ci dovrebbe spingere ad uscire dalla nostra zona di comfort e invece non è così. Che cosa intende dal suo punto di vista con questo pensiero? Che le persone trovano molto più confortevole accantonare la liquidità sui conti correnti che fare uno sforzo e buttare un po' più avanti lo sguardo impedendo di cogliere le opportunità che questo periodo ci sta offrendo. Come già detto ma come si sa ripetita Juvent, la paura a volte ci paralizza e quando la paura diventa panico rischiamo di farci rubare il futuro. Questo concetto nelle sue ultime due interviste lei ce l'ha già espresso e quindi? Quindi vorrei partire da uno lontano 2 aprile 2020. Mi ricordo un mio video rivolto a tutti chiuso tra le mie mura domestiche durante la nostra precedente chiusura forzata ma doverosa in cui invitavo tutti a fermarsi un attimo per riflettere e fare il punto della situazione. In un momento in cui per tutti era diventato fondamentale pensare alla salute, agli affetti, invitavo i risparmiatori a guardare al passato per capire il futuro. Un Big Bang nel mondo economico e finanziario o una tempesta perfetta prendendo a spunto il titolo di un film o anche un cambio di paradigma che ci ha cambiato la vita perché oltre alla sua gravità e pesantezza è stato capace di una straordinaria forza di rinnovamento per la sua anche unicità. Ha abbastanza forte questo concetto, perché ha usato questa similitudine? Perché improvvisamente abbiamo assistito ad un modo di consumare diverso rispetto al passato, spesso di digitale. L'80% delle vendite veniva online. Ad un modo diverso anche di lavorare più flessibile lo smart working, 60% dei lavoratori. Alla didattica a distanza o dad come si sente spesso dire oggi, 97% degli alunni. Alcuni di questi temi ci accompagneranno, anche se in modo diverso, in futuro e speriamo tutti non per colpa di questo virus. Queste sue parole contengono un messaggio, qualche spunto interessante per tutti noi. Ci dica. Come prima cosa, pensando al futuro, è obbligatorio pianificare. Non mi stancherò mai di dirvi questa cosa. Si deve pianificare perché avremo tassi a zero o negativi, a seconda del periodo considerato, per tempi ancora lunghi. Perché dovremmo avere maggiore attenzione sui temi della sicurezza, e qui mi riferisco per esempio alla salute, e anche sulla protezione del patrimonio, non solo alla parte finanziaria. Perché pianificando si ragiona per gli obiettivi e non solo sui rendimenti. e si possono destinare parte delle risorse anche per cavalcare delle tendenze. Vi ricordate la puntata sui trend del futuro? Sì, vero. Lei ha accennato in una nostra precedente intervista, molto tempo fa, a questo argomento. Vuole dirci ancora qualcosa a riguardo? Sarebbe anche scontato dire la tecnologia. Credo però non lo sia per tutti poi così scontato. Ma è molto cresciuta in questo periodo. Qualcuno potrebbe dire, giustamente, oggi certamente è innegabile questo dato. Tuttavia esistono i piani di accumulo del capitale o PAC, strumento insostituibile per investire sui trend o megatrend, come qualcuno li definisce. Comunque la tecnologia trova svariati ambiti di applicazione e per molti siamo ancora all'inizio. Poi ancora, chi sono i principali fruitori delle tecnologie? Questo è un tema importantissimo legato al problema o sviluppo demografico per andare ad incrociare alcuni temi di investimento molto importanti. Altro tema, le sfide contro questo virus o altre tristi malattie che colpiscono la vita e gli effetti di molte persone. Questo con alcune sorprese importantissime sia nei tempi che per i paesi dai quali arriveranno queste scoperte. Poi ancora un altro ambiente e non meno importante è il tema dell'ambiente e il tema del sociale. Lei ci sta mettendo davanti tantissimi argomenti che non basterebbero due pagine di giornale per poterli approfondire. Ecco perché l'educazione finanziaria è importante. Ecco perché è importante pianificare. Ecco perché è fondamentale anche la figura del consulente finanziario patrimoniale che si aggiorna ogni giorno, effetto esami, raccoglie e spunti partecipando ad incontri con professori universitari, mettendovi poi a disposizione questo bagaglio di conoscenze, aiutandovi a pianificare in funzione dei vostri obiettivi, delle vostre necessità e di protezione e dei vostri sogni. Un'ottima sintesi del mio intervento era chiusa in una citazione presa a prestito dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, il quale dice Sopravvalutiamo sempre il cambiamento che si produrrà nei prossimi due anni e sottovalutiamo quello che avverrà nei successivi dieci. Per cui concludo dicendo usciamo dalla nostra comfort zone, usciamo le vele e ricominciamo a navigare. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie al nostro consulente finanziario Alessandro Romagnolo. Buona giornata a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento. Buona giornata a tutti e arrivederci a presto. e buona vita a tutti.